Come si intitola? Giulio Coniglio è andato nel bosco a raccogliere le mele con i suoi amici. Sta arrivando qualcuno, chissà chi è. Il topo Tommaso è salito sull'albero per vedere chi sta arrivando. Mi sembra di vedere un lupo. Ecco è arrivato lo straniero. Buongiorno signor lupo come va? Bene grazie. Mi presento sono Leo Lupo il maestro. Leo Lupo mostra a tutti la sua fantastica scuola ambulante poi presenta la sua assistente Dorothy Cornacchia che parla solamente inglese. Hello! Giulio Coniglio e i suoi amici sono molto stupiti. Non hanno mai visto nulla di simile ma Leo Lupo sembra un maestro molto simpatico. Vorrei tanto andare a scuola. Facciamo subito una bella lezione. Ok! Leo Lupo e Dorothy Cornacchia sono saliti sul carro a prendere una panca per gli alunni. La panca è molto pesante ma Dorothy è una cornacchia fortissima. Gli alunni aspettano impazienti. Non vedono l'ora di iniziare la lezione. Help! Ora Leo Lupo e Dorothy Cornacchia portano anche una grande bellissima lavagna. Che bravi ce l'avete quasi fatta. L'oca Caterina e l'istrice Ignazio si siedono per primi. Sono un po' diffidenti. Non sarà mica maestro severo? Io veramente preferirei andare a giocare. Leo Lupo è un maestro molto dolce e simpatico. Allora ragazzi che lezione volete? Grammatica, geografia, verbi irregolari. Vediamo un po'. Che dice lei? Dice così. Leo Lupo sta aspettando che i suoi alunni prendano una decisione. Io non ci capisco niente. Dai forza scegliete. Scusi maestro Lupo noi non sappiamo niente di queste cose. Non siamo mai andati a scuola. L'oca Caterina spiega a Leo Lupo la situazione. Capisco che vergogna. Allora Leo Lupo decide di partire dall'inizio e di insegnare a tutti a scrivere il proprio nome. Ecco i quaderni. Anch'io ne voglio uno. La lezione di scrittura è cominciata. Il maestro scrive i nomi alla lavagna. Giulio e i suoi amici li copiano sui loro quaderni. Certo non è facile ma loro ce la mettono tutta. Giulio e Caterina mostrano a Leo Lupo il loro lavoro. Va bene così maestro? Poca Caterina. Vediamo vediamo. Muglio conilio. Purtroppo l'istrice Ignazio ha fatto qualche errore ma il maestro Lupo gli dice che è stato bravo lo stesso. Istrizenasio. Ci sono tropezetta. Il mio nome è molto difficile. Il povero Tommaso non è riuscito a finire il suo compito e ora piange. Leo Lupo lo consola. Andrà meglio la prossima volta. Dopotutto Tommaso è ancora piccolo. Gli alunni sono un po' stanchi. Per fortuna è l'ora dell'intervallo. Prendi le frittelle Dorothy. Ok. Dorothy è una cornacchia speciale. Sa anche cucinare le frittelle. Le frittelle inglesi di Dorothy mandano un profumo delizioso. Il topo Tommaso non piange più. Il profumo delle frittelle gli ha fatto tornare il buon umore. Ho molta fame. Siete stati tutti molto bravi. Ora potete riposarvi e gustarvi le frittelle di Dorothy. Le frittelle di Dorothy sono uniche al mondo. Vorrei scrivere ancora. Sul bosco scende la sera. Il maestro e i suoi allievi mangiano frittelle seduti sul prato. Tutti vorrebbero continuare la lezione ma si è fatto tardi e Leo Lupo deve ripartire. Tornate presto. Buon viaggio. È stato bello. Leo Lupo carica sul carro la lavagna e la panca. sale in macchina e parte salutando gli allievi. Ormai è davvero molto tardi. Caterina e Ignazio vanno a casa. Giulio Coniglio vuole scrivere ancora un po' prima di andare a dormire. Come sei bravo. Prima di addormentarsi Giulio Coniglio guarda il suo lavoro appeso alla parete ed è molto soddisfatto. Davvero l'hai scritto tu? Non vedo l'ora di andare a scuola di nuovo. Anch'io speriamo che il maestro Lupo torni presto. Un altro. Un altro sì. Un altro.